Grazie Presidente. Anche quest'anno ci accingiamo ad approvare il bilancio triennale 2020-2022 relativo alla gestione economico-finanziaria di Roma Capitale a ridosso del Natale, che è ormai prassi per questa amministrazione. Lavoro sempre molto intenso, che ovviamente in qualità di Presidente della Commissione bilancio vivo con particolare impegno, particolare passione e anche con la responsabilità che questo ruolo richiede per garantire il più possibile a tutti una visione complessiva il più ampia possibile. Quindi è chiaro che dove i tempi a volte siano un po' più contenuti, magari rispetto ad altre occasioni, si cerca comunque di rappresentare in un numero di commissioni il più ampio possibile quello che il bilancio va a gestire nel triennio successivo. Quindi ringrazio ovviamente i commissari della Commissione bilancio in particolare, ma tutti coloro che poi hanno supportato il lavoro della Commissione, per aver garantito lo svolgimento di un certo numero di commissioni in cui il bilancio e tutti i documenti che ovviamente compongono il set, direi ormai obbligatorio, delle delibere che vanno a costituire la pianificazione economico-finanziaria dell'ente, hanno trovato lo spazio per essere rappresentate, per essere discusse, per essere poi votate in termini di parere nei tempi che consentono a quest'Aula di approvare il bilancio entro la fine dell'anno e per permettere all'ente di partire dal primo gennaio con una gestione ordinaria di tutte le attività contabili e amministrative senza dover ricorrere all'esercizio provvisorio e quindi all'esercizio in dodicesimi come qualche volta è avvenuto, ma non voglio parlare del passato questa volta. Dunque, su questo bilancio ho sentito gli interventi dei colleghi che ringrazio e apprezzo perché ritengo che anche le critiche contribuiscano poi a capire bene il lavoro, il gran lavoro che con l'assessore Lemetti, gli altri assessori, la Giunta e gli uffici è stato fatto anche questa volta. È evidente che è fondamentale anche nelle fasi finali, insomma, quelle che ci portano poi all'approvazione dover intervenire perché il bilancio si approva il disegno e la proposta intorno al 15 novembre. E quindi è chiaro che nello spazio di tempo che ci separa poi dall'approvazione in Aula intervengono tutta una serie di fattori perché la gestione fortunatamente dell'ente va avanti che poi ci portano a dover ragionare su determinati aspetti e a portare dei correttivi. Questo avviene ovviamente con l'attività che da una parte vede impegnate le opposizioni, qualcuna più delle altre, magari a presentare una serie di proposte fra ordini del giorno e demendamenti che poi vengono vagliati e su quelli sono abbastanza convinto che si riesce a volte anche a fare un lavoro di concertazione per garantire anche la rappresentanza di tutte le istanze all'interno poi di quel documento che viene approvato dall'Aula. Io non voglio, è stato detto molto su questo bilancio, non voglio togliere ancora più tempo ai lavori dell'Aula e quindi concludo dicendo che un bilancio può soddisfare tutti ed sarebbe molto difficile, posso dare soddisfazione ad alcuni. L'importante è che la gestione, il rigore e un certo modello, che è quello che poi l'assessore ha rappresentato in Commissione, possa veramente garantire anche nel futuro il rispetto di quella modalità con cui abbiamo voluto riportare i conti di Roma Capitale in una gestione corretta, rispettosa delle regole e soprattutto che permetta ai Romani poi nel tempo e alla lunga di vedere le risorse a disposizione impiegate più per la gestione e la fornitura di servizi di qualità piuttosto magari che per pagare debiti o pendenze che si sono accumulate nel tempo. Grazie.